Milan scende in campo il 25 aprile 1971, squadra rossonera con le maniche corte, maglia bianca tenuta estiva per il Milan di Nereo Rocco, reduce da tre risultati tutto sommato positivi, due vittorie e un pareggio per come si era messa la situazione per il Milan a metà del girone di ritorno, in tre partite due vittorie e un pareggio deve essere considerato un saldo positivo, però l'Inter va fortissimo, per il Milan diventa difficilissimo se non proibitivo raggiungere la squadra nera azzurra, il Milan per sperare di tornare in lotta con grandi speranza con grandi possibilità di conquistare il titolo, dovrebbe vincere tutte e quattro le ultime quattro paridi di campionato, invece come vedremo il Milan ne vincerà soltanto una, ne perderà una, ne pareggerà due, fra le quali questa di Catania che finisce 0 a 0, gara arbitrata da Angonese, ripetiamo 25 aprile 1971, Milan in campo dall'inizio con Belli Anquilletti e Cesarone Cattaneo, Maldera, Schnellinger, Biasiolo, Comben, Casone, Benetti, Rivera e Prati, il Catania risponde con Rado, Cherubini, Montanari, Buzzacchera, Reggiani, Biondi, Bernardis, Fogli, Baisi, Pereni e Bonfanti, il Catania era la squadra ultima in classifica, il Milan era atteso ad una vittoria qui al Cibali contro il Catania, invece da questa gara viene fuori uno 0 a 0 che non rende onore tutto sommato al campionato del Milan, basti pensare che il 3 gennaio del 71 il Milan in casa in questo stesso campionato aveva battuto il Catania 4 a 0 contro il gol di Prati e uno di Benetti, invece in questa gara di ritorno non si va al di là dello 0 a 0, al Milan prova a dare una mano anche Silvano Villa che era andato a rafforzare il reparto offensivo del Milan all'inizio del secondo tempo al posto proprio di Cesare Cattaneo, difensore che sarebbe diventato poi famoso, si sarebbe poi imposto nell'Udinese definitivamente negli anni successivi, quasi alla fine della carriera, qui siamo agli inizi per lui, Milan che non riesce a passare nella partita che il 25 aprile 1971 sottrae definitivamente i rossoneri dalla lotta per il titolo, il Milan poi atteso anche da un'altra trasferta contro il Bologna il 2 maggio 1971, una trasferta non felice, non positiva per il Milan, Milan che all'andata aveva vinto 2-1 con la notizia dell'infortunio di Liguori per l'intervento di Benetti. Bologna-Milan, commento, domenica sportiva 2 maggio 71, Milan Superclassic.